Macchine. Macchine semplici. Non si possono ulteriormente scomporre in macchine più elementari. Dal punto di vista storico, le macchine semplici rappresentano le tecnologie più antiche per applicare una forza maggiore della sola forza muscolare, attraverso il principio del guadagno meccanico. Leve. Carrucola. Verricello. Argano. Piano inclinato. Cuneo. Vite. La leva. La leva è una macchina semplice formata da un'asta rigida che può ruotare intorno a un punto fisso, detto fulcro. La forza applicata alla macchina è detta forza motrice, P, mentre la forza da equilibrare o da vincere è detta forza resistente, R. Schema. Braccio della resistenza BR. Braccio della forza motrice BP. R, fulcro, P. Tipi di leve. L'equilibrio della leva si raggiunge quando P per BP, uguale, R per BR. Una leva. È vantaggiosa se raggiunge l'equilibrio con una forza motrice P, minore della resistenza R. È svantaggiosa se raggiunge l'equilibrio con una forza motrice P, maggiore della resistenza R. È indifferente se raggiunge l'equilibrio con una forza motrice P, uguale alla resistenza R. A seconda della posizione del fulcro. Si possono avere. Leve di primo genere, il fulcro si trova tra le due forze. Vantaggiosa, esempio tenaglie. Svantaggiosa, esempio remo. Indifferente, esempio forbici. Leve di secondo genere, la resistenza è tra il fulcro e la forza motrice, sempre vantaggiose. Esempio, carriola. Leve di terzo genere, la forza motrice è tra il fulcro e la resistenza, sempre svantaggiose. Esempio pinze da barbecue, pinzette. Carrucola. La carrucola è un meccanismo costituito da un cilindro che ruota rispetto a un asse passante per il centro, e sulla cui superficie è ricavata una scanalatura, gola, entro la quale scorre una fune o una catena. Può essere. Fissa, il perno è ancorato e scorre la fune. Mobile, ad essere ancorata è la corda o la catena e a scorrere è la carrucola. Nel primo caso può essere paragonata ad una leva indifferente, nel secondo ad una leva vantaggiosa, la forza da applicare viene dimezzata. Per rendere il sistema della carrucola ulteriormente vantaggioso è possibile applicare una seconda carrucola. Argano e verricello. Esempi. Il piano inclinato. Il piano inclinato è una macchina vantaggiosa e forma un angolo con il piano orizzontale. Sul piano inclinato la resistenza si scompone in due componenti e la potenza deve contrastare solo la resistenza R2 parallela al piano inclinato. Minore è l'angolo di inclinazione del piano e minore è la potenza da applicare, anche se aumenta lo spazio da percorrere per raggiungere la stessa altezza. In alcuni casi, come avviene negli stadi sportivi, ci si muove da un livello all'altro a mezzo di rampe, che sono piani inclinati. Il cuneo. È un prisma a sezione triangolare, con una faccia minore, testa e due facce maggiori, fianchi, unite nel vertice, punta o tagliente. È una macchina sempre vantaggiosa. Sul principio del cuneo funzionano tutti gli utensili da taglio, l'accetta, lo scalpello, il coltello, il punteruolo, eccetera. Quanto più lungo sarà il cuneo in rapporto al suo spessore, tanto più facile sarà forzarlo all'interno degli oggetti. Gli spaccalegna adoperano un cuneo che battono con una mazza spingendolo nelle fibre del legno da tagliare. Quanto più penetra, tanto più profondamente si divideranno le due sezioni del ceppo. La vite. La vite è un piano inclinato avvolto su un cono che mostra una scanalatura elicoidale, filetto. Facendo ruotare la vite, con una piccola potenza si riesce a vincere la grande resistenza del materiale. Il filetto vi penetra scavandovi la madre vite, anch'essa un piano inclinato avvolto. Le due superfici inclinate combaciano e si bloccano tra loro. Nello stesso modo funziona anche il bullone, che non è appuntito. La vite sviluppa grandi forze per sollevare pesi notevoli e per produrre grandi pressioni, basti pensare a come una vite tiene insieme strettamente due pezzi di legno. Le applicazioni pratiche della vite nell'uso domestico sono numerosissime, nei rubinetti, nelle lampadine, coperchi di bottiglie, congiunzioni dei tubi dell'acqua eccetera. Schema. Filetto, vite, madre vite, passo. Macchine complesse. Le macchine complesse sono dispositivi composti da più macchine semplici fra loro coordinate. La bicicletta, per esempio, è una macchina complessa perché si compone di varie parti funzionanti, ciascuna macchina semplice svolge un lavoro che interagisce con l'insieme. Meccanismo biella-manovella. In meccanica il manovellismo di spinta rotativa, conosciuto come meccanismo biella-manovella, è un sistema per la trasformazione di moto rettilineo alternato in circolare, e viceversa. Il moto della manovella è continuo e circolare, quello del piede di biella è rettilineo ed alternato. I suoi principali componenti sono. La biella, asta collegata con due cerniere, da un lato allo stantuffo, dall'altro alla manovella. La manovella, asta collegata con la biella è vincolata a ruotare intorno al centro del disco. Lo stantuffo, o pistone, collegato all'estremità superiore della biella, piede di biella. Le guide che vincolano il moto dello stantuffo. Trova diffusione, ad esempio, nei motori a pistoni. Schema, guida, stantuffo, biella, manovella. Meccanismo della camma. La camma è un componente sagomato che fa parte dei meccanismi di trasmissione del moto, trasforma un moto rotatorio in un moto rettilineo alternato. Motore a due tempi benzina. È un motore termico a combustione interna. Il ciclo di trasformazione dell'energia chimica del combustibile in energia meccanica si svolge in due tempi, che corrispondono a un giro dell'albero motore. Albero motore barra a gomiti. È il componente a cui viene inviata, tramite bielle e pistoni, tutta l'energia meccanica prodotta dai gas durante la fase di espansione. L'albero a gomiti è dotato di una serie di manovelle, o gomiti, sulle quali sono montate le bielle. 1. Aspirazione e compressione. Il pistone sale verso l'alto e chiude la luce di travaso e quella di scarico, le luci sono dei fori. La miscela costituita da aria benzina olio già contenuta nella camera di combustione, la zona superiore del cilindro, viene compressa. Attraverso la luce di aspirazione viene immessa nuova miscela aria benzina olio nel carter, la zona inferiore del cilindro, grazie alla depressione generata dal movimento del pistone verso l'alto. La candela scocca una scintilla che innesca la combustione della miscela. 2. Scarico e travaso. L'esplosione della miscela spinge violentemente il pistone verso il basso. La luce di scarico si apre, permettendo l'espulsione dei gas combusti nell'atmosfera. La luce di travaso si apre e il pistone spinge la miscela contenuta nel carter verso la parte superiore del cilindro, dove va a sostituire i gas combusti. Vantaggi e svantaggi. È un motore semplice e compatto, privo di valvole e di sistemi di lubrificazione, pertanto di facile manutenzione. L'ingresso della miscela avviene attraverso particolari feritoie realizzate nel cilindro, dette luci, che vengono aperte e chiuse dal movimento del pistone, mentre l'olio viene immesso con la miscela. Il motore sviluppa più potenza, fornendo un'accelerazione più scattante. È un motore inclinabile e reversibile, esclusi i motori unidirezionali. Può ruotare in un verso o nell'altro senza che vi siano problemi di grippaggio per difetto di lubrificazione. Svantaggi, produce emissioni più inquinanti rispetto a un motore a quattro tempi. L'olio contenuto nella miscela spesso non brucia completamente. Parte della miscela può uscire dal cilindro anche prima della sua combustione, in quanto il pistone durante il suo movimento dal basso verso l'alto e viceversa lascia aperte sia le luci di aspirazione che quelle di scarico, aumentando così anche l'accumulo di sporco nell'involucro esterno del motore. Motore a quattro tempi benzina. Oltre che nelle automobili, è diffuso nelle motociclette e in molti modelli di scooter, nei camion di basso tonnellaggio e nei tosaerba. A differenza di un motore a due tempi è meno inquinante e gode di consumi ridotti. Ciclo 8, il ciclo a quattro tempi più diffuso, si chiama così per via del nome del suo inventore, l'ingegnere tedesco, Nikolausogastotto. Il termine a quattro tempi deriva dal fatto che la combustione avviene in quattro passaggi successivi, aspirazione, compressione, espansione e scarico. Vengono compiute in quattro corse del pistone, ovvero due giri completi dell'albero a gomiti. Accensione comandata, è stabilita dalla candela. 1. Aspirazione. La valvola di aspirazione si apre per consentire l'ingresso della miscela aria-benzina. Il pistone scende dal punto morto superiore PMS, il massimo della corsa, al punto morto inferiore PMI, il minimo della corsa. Scendendo, si crea una forte depressione nella camera di combustione, grazie alla quale, la camera si riempie di miscela aria-benzina. La valvola di scarico è chiusa. 2. Compressione. Le valvole di aspirazione e scarico sono chiuse e il pistone risale dal PMI al PMS, comprimendo la miscela aria-benzina all'interno della camera di combustione. La pressione della miscela aumenta, può raggiungere valori dell'ordine di 12-20 bar, e la temperatura risulta di circa 300-480 gradi centigradi. 3. Scoppio. Nei motori ad accensione comandata la combustione avviene grazie all'innesco generato dalla scintilla che scocca tra gli elettrodi di una candela. In questa fase all'interno della camera di combustione non avviene una deflagrazione, ma una combustione. La combustione prosegue rapidissima e deve completarsi senza dare luogo ad un'esplosione, che causerebbe il cosiddetto battito in testa, perché in tal caso le sollecitazioni, superando i parametri progettuali, porterebbero rapidamente alla rottura meccanica. Nella fase di espansione del ciclo 8, a causa del grande aumento di temperatura, circa 2300 gradi centigradi, dovuto alla combustione, la pressione di gas all'interno del cilindro raggiunge valori elevati, tra i 35 e i 45 bar, e il pistone viene spinto con forza verso il punto morto inferiore. Entrambe le valvole sono chiuse. 4. Scarico. Il pistone risale, espellendo i gas della combustione attraverso l'apertura della valvola di scarico. I fumi della combustione vengono inviati nel collettore di scarico, collegato alla marmitta catalitica, che li processa e li immette in atmosfera. La valvola di aspirazione è chiusa. Ora il ciclo può ripartire da capo. Motore a quattro tempi gasolio. Il motore diesel, brevettato nel 1892 da Rudolph diesel, è un tipo di motore alternativo a combustione interna, alimentato in origine a olio vegetale e oggi a gasolio, che sfrutta il principio della compressione per ottenere l'accensione del combustibile in maniera spontanea, non ci sono candele ma iniettori che polverizzano il gasolio in goccioline. 1. Aspirazione. La valvola di aspirazione si apre per consentire l'ingresso dell'aria. Il pistone scende dal punto morto superiore, PMS al punto morto inferiore, PMI. Scendendo, si crea una forte depressione nella camera di combustione, grazie alla quale, la camera si riempie di aria. La valvola di scarico è chiusa. 2. Compressione. Le valvole di aspirazione e scarico sono chiuse e il pistone risale dal PMI al PMS, comprimendo l'aria all'interno della camera di combustione. Il pistone comprime l'aria a pressioni di circa 30-50 bar, elevando la temperatura fino a 600 gradi centigradi. 3. Accensione. L'iniettore introduce il gasolio nel cilindro sotto forma di minuscole goccioline, che, a contatto con l'aria incandescente, si accendono. La miscela aria-gasolio prende fuoco spontaneamente, a causa dell'elevata temperatura dell'aria. I gas originati dalla combustione spingono con violenza il pistone verso il basso, trasmettendo il movimento all'albero motore. 4. Scarico. Il pistone risale, espellendo i gas provocati dalla combustione attraverso l'apertura delle valvole di scarico, che fanno evacuare il gas combusto dal cilindro. I residui della combustione vengono immessi nel collettore di scarico, collegato all'impianto di scarico, costituito dalla marmitta catalitica, dal silenziatore e nel motore diesel, anche dal filtro attivo antiparticolato. I gas sono processati ed espulsi in atmosfera. Il ciclo può ripartire. Marmitta catalitica. Se nel motore a scoppio la combustione della benzina avvenisse in modo ideale, produrrebbe solo anidride carbonica, CO2, e acqua, H2O, secondo la reazione. Hc, più, O2, freccia, CO2, più, H2O, più, calore. Dove Hc indica la benzina, idrocarburo. Combustione reale. La reazione di combustione reale, che avviene nei motori a scoppio, oltre a generare CO2 e H2O, produce anche idrocarburi parzialmente bruciati Hc, par, e monossido di carbonio CO, che hanno reagito in modo incompleto con l'ossigeno O2. Inoltre produce ossido di azoto NO. Hc, più, O2, più, N2, freccia, CO2, più, H2O, più, Hc, par, più, CO, più, NO, più, calore. Rodio. Le moderne marmitte catalitiche sono dette trivalenti, perché riescono ad eliminare tutti e tre gli inquinanti dai fumi di scarico, Hc, par, CO e NO. I catalizzatori sono sostanze che non prendono direttamente parte alla reazione chimica, ma sono in grado di aumentarne o diminuirne la velocità. Il Rodio, RH, favorisce la decomposizione dell'ossido di azoto NO, in N2O2. L'ossido di azoto NO, non è una molecola molto stabile e a temperature compresse tra 300 e 900 gradi centigradi può essere trasformato in N2O2 che risultano più stabili e innocui per la salute e l'ambiente. Palladio. Per completare la reazione di combustione che avviene in modo incompleto nella camera di scoppio, si utilizza un metallo catalizzatore chiamato palladio, PDI, che ha la proprietà di favorire la reazione tra idrocarburi e ossigeno facendola avvenire già a 300 gradi centigradi, temperatura molto più bassa di quella che si realizza in una fiamma o nei cilindri del motore. La reazione in una marmitta catalitica ossidante è la seguente. HC par, più CO, più, O2, freccia, CO2, più, H, 2, O, più, calore. Platino. Il rapporto ideale aria-benzina per ottenere una combustione completa è 14,7 a 1 ed è chiamato rapporto stechiometrico. Una carburazione più magra, con meno benzina, non è accettabile perché comporta una perdita di potenza del motore. Una carburazione più grassa non è accettabile perché mancherebbe l'ossigeno O2 necessario al catalizzatore ossidante per abbattere HC par e CO. Per avere la massima efficienza del motore e della marmitta catalitica, è indispensabile che la carburazione sia attentamente controllata, né troppo grassa, né troppo magra, ma esatta, stechiometrica. In queste condizioni la marmitta catalitica raggiunge la sua massima efficienza abbattendo il 90% degli inquinanti. La carburazione può essere influenzata dalla pressione atmosferica e dall'umidità dell'aria e, per mantenerla ideale, bisogna continuamente correggerla. Per questo si utilizza l'iniezione elettronica. Cioè una centralina elettronica che regola la quantità di aria e carburante immessa nei cilindri in base al segnale fornito dalla sonda lambda, contenente platino Pt, un sensore del livello di O2 nei gas di scarico. Marmitta catalitica. Schema. Ripassa la mappa del capitolo.